Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video oggi andiamo alla scoperta della nuova serie delle minifigure lego di super mario la quarta serie siamo arrivati alla quarta serie ragazzi e qui c'è la checklist riportata subito sul fronte della bustina 10 personaggi tutti da collezionare eccoli qui siamo arrivati alla quarta serie ragazzi il costo di ogni bustina è di 4 euro le trovate nei lego store ma anche nei principali negozi di giocattoli quindi sono facilmente reperibili apriamola e andiamo alla scoperta del nostro primo personaggio del nostro primo personaggio della quarta serie eccolo qua allora apriamo anche la cartina allora eccola qua la cartina aveva il sigillo quindi che poi sostanzialmente era un pezzo di scotch che la teneva ferma allora il personaggio che abbiamo trovato si è proprio lui è Scar di Rat cioè lui e questi sono tutti i vari nomi nelle diverse lingue Gratterick Raplapla o Raplapla Raton Aterrata e Aterrato non so se la pronuncia è corretta ma comunque questi sono i vari nomi del personaggio che abbiamo trovato e anche di tutti gli altri vedete sotto ogni personaggio ci sono i vari nomi nelle diverse lingue e noi abbiamo trovato Scar di Rat questa è tutta la checklist della collezione qui li vediamo ancora meglio rispetto alla copertina della bustina allora lo monto e ce lo vediamo ed eccolo qua ragazzi il nostro personaggio montato guardate quanto è bello ecco qui proseguiremo la caccia cercando di completare la collezione quindi ragazzi iscrivetevi al canale per non perdere questo e tanti tanti altri video guardate che bello il personaggio molto molto bello e oggi abbiamo inaugurato la quarta serie delle minifigure Lego di Super Mario detto questo ragazzi io vi rinvito ad iscrivervi al canale vi invito anche a lasciare un bel mi piace a questo video a commentarlo se volete in descrizione vi lascio anche i link alle altre pagine social del canale quindi in descrizione trovate il link alla pagina facebook al profilo instagram e al profilo tiktok del canale troverete in descrizione anche il link del blog se volete fateci un salto e noi come al solito ci becchiamo al prossimo video ciao belli grazie a tutti